Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione web della città, questo è il secondo appuntamento di oggi con le notizie, andiamo a vedere per cominciare le notizie di viabilità, l'indirizzo in sovrimpressione, vi ricordo che trovate il riepilogo completo. Vi segnalo soltanto per questa notte che da 1 alle 3 sarà chiuso il sottopasso di Porta Palazzo, quello di Corso Regina Margherita per le tradizionali operazioni di pulizia meccanizzata che avvengono ogni settimana, per domani invece vi segnalo in Piazza Vittorio Veneto ci sarà l'allestimento di un'installazione scenografica dedicata all'alta definizione, quindi queste operazioni ovviamente comporteranno qualche variazione, vi segnalo anche un divieto di transito in via Mombarcaro tra via Valentino e via Rovereto per un montaggio di gru al Civico 94 e poi domani manutenzione alcuni semafori, Corso Orbassano all'angolo con le vie Filadelfia e Gorizia, via Nizza all'angolo con via Valperga Caluso e Corso Sommeiei, Corso Racconigi all'angolo con via Monginevro e infine Corso Novara all'angolo con via Leoncavallo. Questa la viabilità, passiamo a vedere la situazione del tempo, una situazione che come potete vedere sulla nostra home page è stata rilevata alle ore 15 dall'Alpa Piemonte con cielo poco nuvoloso, temperatura sopra i 32 gradi, umidità al 44%, per questa sera sono possibili dei temporali deboli e moderati nella zona cittadina, la possibilità come la vedete anche dal nostro carosello e quindi di prendere un po' d'acqua questa sera ma speriamo niente di grave. Andiamo a vedere le notizie dal web della città, dicevamo questa sera, allora vi segnaliamo che abbiamo pubblicato proprio quest'oggi, una notizia dedicata agli eventi d'estate che si tengono a Torino e anche nell'immediata cintura, trovate un pdf con tutti quanti gli eventi organizzati per luogo e anche una mappa sul nostro servizio di mappato con le varie sedi di questi eventi. Passiamo a vedere le nostre webcam, passiamo a vedere quella di Piazza Palazzo di Città, eccoci qui l'inquadratura di Palazzo Civico in questo momento, poi ci spostiamo con la regione Piemonte su questa inquadratura suggestiva di Superga con la collina sullo sfondo, qui siamo invece per quanto riguarda il traffico nella zona nord della città, la rotonda autostrade, vedete abbiamo un po' di auto in uscita dalla Torino-Milano in ingresso in città e infine nella zona sud, qui siamo in Piazzale Caio Mario, abbiamo alcuni lavori all'altezza dell'imbocco di Corso Agnelli come vedete dal quadrante superiore sinistro ma per quanto riguarda il traffico in questo momento non ci sono assolutamente problemi. Allora, parlavamo di tempo per questa sera, parlavamo di eventi a Torino, è il momento di scoprire che cosa fare questa sera, lo facciamo con Matteo De Simone e io vi do l'appuntamento a domani mattina. Grazie Mirko, buon pomeriggio, tra gli eventi che ricordava Mirko poco fa, gli eventi estivi c'è senz'altro il Veneria Real Festival segnato questa sera dal ritorno dal vivo di Cristiano De Andrè con uno spettacolo di musica interamente dedicato al padre alle 21 e 30 appunto alla Veneria Reale. Nove mesi e un giorno è lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa che va in scena questa sera alle 21 alla terrazza sul Po in via Moncalieri 18, uno spettacolo che racconta le vicende di una coppia di trentenni aliprese con il loro primo figlio. Evita, regina della comunicazione, infine il titolo del libro di Carolina Vai, Carola Vai scusate, presentato alle 17.30 alla Feltrinelli Libri e Musica in piazza CLN. Per quest'oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 9.15, ringrazio Mario Parena che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata. A tutti voi una buona serata. A tutti voi una buona serata.